Palma Campania, la terra del carnevale Amici, sono in compagnia del poeta Michele La Prugna Che poesia ci propone oggi? Antonio, caro, abbraccia a me Se me l'anima sole, tu ci spiega sui miei braccia La mo' all'eternità Ti porto in dei suoi, nel dito dei pensieri Non ti posso più scordare E chi cambia, se non te ne sa te Antonio, caro, abbraccia a me Il carnevale più bello della Campania è solo qui a Palma Campania Vivo fuori da diversi anni, ma torno sempre per il carnevale Perché è il più bello per le famiglie Visto che c'è una bella famiglia, per me è uno spettacolo Ti piace il carnevale qui a Palma Campania? Devo dire la verità, è la prima volta che vengo A carnevale? Ogni scherzo vale Solo questo? La lasagna, le ghiacce, il migliaccio Da cosa siete vestiti? Lei è l'ape e noi gli amicoltori Mu! La rosa è rossa Il rame è verde Ma il mio amore per te non si perde Amici, sono in compagnia di Silente Silente? Malocchio Malocchio, malocchio Prezzemole? Finocchio Aglio, fravaglio, fattura che non guaglia Sono in compagnia del santo patrono di Palma Campania San Biasio, solo per casa Eh, non sono io, il santo patrono Speriamo che quest'anno sia la rinascita di un carnevale ancora più importante che ci porta ai vertici internazionali È una kermesse che va avanti nel tempo solo grazie alla tradizione perché sì c'è la storia ma c'è un amore immenso, quello che ogni palmese cerca di portare in scena ogni anno attraverso le quadriglie, attraverso i quadrillanti, attraverso i temi e sono convinta che la magia che si respira e si assapora a Palma Campania si può vivere solo qui Che meraviglia, scusate Il carnevale è una delle feste più divertenti che esistono, le persone si travestono e per un po' dimenticano i propri problemi Amici, sono in compagnia del dottor Nello Donnarumma, il sindaco di Palma Campania Ma è vero sindaco che in Italia esiste solo un carnevale che è quello di Palma Campania In Italia esistono tanti carnevali ma sicuramente quello di Palma Campania è unico nel suo genere, è uno dei carnevali riconosciuti dal Ministero della Cultura tra i 30 carnevali storici d'Italia ma soprattutto solo qui si possono vedere le quadriglie, è uno spettacolo unico al mondo Per me che sono un amante del carnevale ma anche un amante del pesce, sono napoletana e mangio il pesce, meglio una triglia o una quadriglia? Meglio una quadriglia, sempre meglio una quadriglia Chiara, prima volta qui a Palma Campania? Sì, prima volta Ma che meraviglia, poi dopo Sanremo hai fatto uno spettacolo incredibile Grazie, grazie, sì sì sì, sono felice Sei attrice, presentatrice, scrittrice? Sì, mi manca solo il mimo e poi... I carnevali passano, certe maschere restano La luna è brutta, il sole è bello ma tu tutte le sere io fai un spogliarello Io ti porto un coppio e fai una novella La prima ti faccio fare una mangiata di mozzarella e poi tu merai che è la cosa bella Arrivederci e grazie Grazie